Si avvicina a quella che, per certi versi, può essere considerata una delle giornate più importanti dell'anno, se non la più importante per l'Università della Calabria. Venerdì 30 settembre, infatti, l'Ateneo Bruzio ospiterà la Notte del Ricercatore. In realtà si tratta di un'intera giornata e non solo di una notte, perché le attività inizieranno fin dal mattino, per concludersi proprio nella notte fra venerdì e sabato. Un evento molto importante perché l'Unical si mette in vetrina mostrando tutte le proprie attività, le proprie potenzialità, i passi in avanti fatti in tema di ricerca, ma anche aspetti diversi che contraddistinguono il campus, come lo spettacolo, il teatro, il cinema e lo sport. Insomma, per tutti i gusti e per ogni età, tante infatti le famiglie che visitano l'Ateneo, ma al tempo stesso non mancano in mattinata le visite delle scuole e di chi in futuro sarà uno studente Unical. In buona sostanza un vero e proprio punto di incontro che conferma la centralità dell'Università della Calabria nell'area urbana di Cosenza e non solo, e rafforza proprio il legame con il territorio. Alcune attività che riguardano il cinema e lo sport sono già in corso, ma il clou sarà a venerdì 30 dalle 9.30 del mattino fino a tardanotte.